buongiorno a tutti allora magliettina magliettina sì 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 magliettina sì 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 moto gp sì 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 allora moto gp qualifiche ma prima di parlare delle qualifiche è successo un fatto brutto 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 è successo il fatto brutto 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 perché il buon Vignales diciamo che ha provato a disintegrare il motore della sua moto sgasate sbagli di mettere magari la seconda 200 all'ora eccetera per provare a distruggere il motore poi pare che si sia anche vantato ho provato a distruggere il motore della della yamaha m1 eccetera eccetera logicamente hanno visto tutto l'ambaradam cc coi responsabili e l'hanno bloccato quindi non correrà nella gara di oggi correrà calcraccio che ormai l'hanno promosso l'hanno rimesso in pista e pare 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 che sta rischiando il licenziamento e sono dolori perché prendeva otto zucche come direbbe il buon il buon Diego Ligorio e otto milioncini non te li becchi più e te ne daranno la metà perché non siamo forse neanche meno della metà perché non so se siamo arrivati a metà campionato però pare che l'intenzione è licenziamento per giusta causa eccetera dovranno decidere intanto questo gran premio lui non lo corre se lo guarda dalle tribune correrà calcraccio poi ho indagato su dove potrebbe finire il buon Vignales e pare pare che l'anno prossimo potrebbe correre con la briglia sinceramente si vede che non sta andando d'accordo col team e tutto quanto poi c'è Quartararo che gli mette come si suol dire il sale sulla coda tutte le volte lasciandolo dietro gli bagna il naso come si diceva una volta ti fai sempre bagnare il naso da quello lì vuol dire che sei sempre dietro ti fai sempre battere e allora si vede che magari vuol puntare sull'apriglia che sta crescendo bisogna ammetterlo l'apriglia quest'anno è libidile e quindi ha pensato bene che magari in una scuderia che sta nascendo eccetera può fare il primo pilota può essere coccolato vezzeggiato eccetera certo non sei Yamaha sei in apriglia però e quindi sta rischiando il licenziamento era giusto fare questa piccola anteprima detto questo andiamo a vedere come è andato il Q1 e soprattutto chi ha partecipato al Q1 per cercare di essere tra i due piloti che si qualificano per il Q2 allora alcuno hanno partecipato Rins, Marini, Martin, Olivera, Rossi, Alex Marquez, Lecuona, Bastianini, Petrucci e Carl Craccio. Dopo i primi giri a circa otto minuti dalla fine del Q1 è Super Martin al primo posto seguito da Rins che è davanti di un nulla a Bastianini. Alle loro spalle Olivera, Alex Marquez e Rossi staccati diciamo dal secondo fino al quinto fino al sesto di un decimino globalmente quindi dal secondo posto al sesto posto c'è poco più di un decimo mentre dal secondo posto al primo ci sono tre decimi abbondanti quasi quattro però però c'è ancora la seconda parte andiamo a vedere cos'è successo nella seconda parte del Q1 mentre Martin sembra tranquillo quattro decimini di avvantaggio però fidarsi è bene non fidarsi è meglio quindi non se ne sta ai box a vedere cosa fanno gli altri per poi eventualmente entrare se qualcuno o meglio due piloti riescono a stargli davanti quindi lui si butta dentro lo stesso e dopo il primo giro del secondo tentativo se preferite il secondo step il buon Martin si migliora orteramente ma però anche Rins si migliora e si avvicina recuperando un decimo al pilota dal buon Martin perché praticamente Martin resta primo si migliora di un decimino però Rins si porta da quattro decimi che era prima a tre decimi però è sempre abbastanza a distanza di sicurezza e alla fine della fiera all'ultimo giro prima Martin abbassa ulteriormente il suo tempo di un decimo per ribadire al Q2 ci vado io e stop però il buon Olivera gli da una scherzettone gli fa uno scherzettone al povero Rins e si qualifica di un decimo in meno quindi il povero Rins passa al terzo posto e deve salutare il Q2 dopo essere stato al secondo posto per praticamente tutto il Q1 all'ultimissimo giro quando ormai era lì ma che bello vado a fare a giocarmi la pole tacchete il buon Olivera riesce a beffarlo in maniera clamorosa quindi la classifica finale del Q1 vede Martin e Olivera che volano felici come delle Pasque al Q2 anche se ormai la Pasqua è passata da un pezzo mentre invece al terzo posto troviamo Rins, al quarto Alex Marquez, al quinto Bastianini, al sesto Lecuona al settimo Marini, ahimè all'ottavo posto il Bon Rossi, al nono Petrucci e al decimo Cal Craccio che logicamente essendo stato ributtato dopo aver fatto per mai più di un anno il collaudatore adesso ultimamente lo stanno ributtando la settimana scorsa è rientrato nelle corse e oggi deve ributtarsi nelle corse sperando che faccia un attimino meglio di settimana scorsa comunque qualificati per il Q2 sono Zarco, Bagnaia, Quartararo, Marquez, Alex Spargaro, Miller, Mir, Nakagami, Binder, Paul Spargaro, Martin e Olivera dopo una bellissima prima parte di Q2, la Paul è per ora nelle mani di Quartararo davanti a Joel Martin che però è staccato di ben 360 millesimi quindi Zarco che ha addirittura un ritardo doppio rispetto al Bon Quartararo perché ha ben 720 millesimi più vicini poi al Bon Zarco, Marquez, Spargaro, Miller che si possono giocare la prima fila visto che appunto il Bon Zarco è terzo quindi col terzo posto sei in prima fila certo un pochettino più spostato dietro però intanto sei in prima fila e già fa libidine sembra che non succeda nulla sembra che ormai la situazione sia chiara limpida e la palissiana con il Bon appunto Quartararo in pole position ma all'ultimo giro le Ducati Pramac con Zarco che tira la volata a Martin riescono a recuperare alla grandissima Zarco passa dalla settima alla quarta posizione mentre invece il buon Jorgen Martin per solo 24 millesimi si cucca la pole position e beffa il povero Quartararo al quale gli giraranno abbastanza i testi ma in ogni caso prima fila garantita pole position sapete benissimo che in MotoGP conta poco visto che comunque le moto cioè Formula 1 sono così nelle moto sono un attimino cioè sei avanti ma di un nulla e in più hai tutta la pista viceversa con le macchine capite che se parti prima ti metti davanti e ciao Pep a meno che non ti scivolano le gomme fai una partenza di gomma scusate il gioco di parole e quello che in seconda fila ti frega comunque Gran Premio d'Austria vediamo com'è la griglia di partenza per il Gran Premio che si disputerà oggi pomeriggio in prima fila come dicevamo abbiamo Martin Quartararo e uno splendido splendente bagnaia che zitto zitto cacchio cacchio senza farsi più di tanto notare è in prima fila finalmente un buon pecco che mi si mette in prima fila che mi fa godere come un riccio in seconda fila abbiamo Zarcomar Marquez che come un falco pequeño è pronto ad approfittare degli allori altrui e il buon Jack Miller quindi in terza fila Mir, Alex e Spargaro e Olivera in quarta fila Binder, Paul e Spargaro e Nakagami in quinta fila Rins, Alex Marquez e il buon Bastianini che di Riffo e di Raffa sta crescendo ecco diciamo che sta crescendo quindi Lecuona, Marini che si toglie la soddisfazione di mettersi davanti al fratellone Rossi, fratellastro e infine ultimi Petrucci e Craclo quindi solo 20 piloti parteciperanno appunto a questo gran premio vedremo domani cosa succederà io sinceramente vedo comunque un quarta raro che può dire la sua Marquez, Darko e Bagnai a Idem ma attenzione a Martin che se non sbaglia le gomme perché è importante la scelta delle gomme sarà basilare mettere la media media hard soffice hard hard media hard vedremo domani anzi oggi perché ormai manca poco questo video penso che lo vedrete nella mattinata di domenica dipende sempre dai criceti perché devo dire che i criceti in questi giorni stanno facendo gli scansa fatica si vede che sentono anche loro il ferragosto e hanno deciso di andare un po' a rilento e giustamente devono andare in ferie anche loro il guaio è che io non mi posso permettere che loro vadano in ferie perché se mi caricano i video troppo tardi già li guardano in quattro gatti un canarino se escono quando ormai il gran premio sta partendo le qualifiche non me le guarda nessuno comunque come dico sempre al vostro buon cuore se volete iscrivervi al canale mi fate un favore tanto a voi non costa nulla anche se vi iscrivete se volete attivate la campanella se no no però almeno io arrivo io ho bisogno di arrivare a mille è il mio sogno arrivare a mille è il mio primo step poi piano piano voglio crescere come dico sempre penso di meritarmelo poi qualcuno mi dirà no non te lo meriti fai schifo eccetera eccetera vabbè me lo prendo tanto come vi ho già detto quello che gli altri pensano di me a far loro logicamente i complimenti mi fanno piacere basta che non esagerate perché poi mi monto la testa e le offese qua mi entrano qua mi escono perché non sto facendo nulla di male detto questo ci vediamo alla prossima ciao